È l'ASCOM di Caltanissetta che attraverso una nota chiede all'amministrazione comunale quali siano i programmi e gli eventi previsti in città a poco più di un mese dalle festività natalizie. Giorni che si avvicinano e che come ogni anno vedono ripopolare temporaneamente le strade cittadine grazie a molti nisseni che vivono e lavorano in altre città e che rappresentano per chi ha un'attività commerciale un'opportunità di lavoro in più. Proprio i commercianti guardando a realtà sia più piccole che più grandi di Caltanissetta vorrebbero risposte in un momento in cui dopo i due anni della pandemia e l'attuale crisi economica scarseggiano le vendite. Nella nota richiamano il rischio e chiusura conseguente alla crisi attuale per molte aziende con la ricaduta su posti di lavoro in meno. Oltre a chiedere notizie su eventi illuminari e natalizie, altra domanda che pongono all'amministrazione riguarda il coinvolgimento delle associazioni locali nelle iniziative e chiedono espressamente se saranno coinvolte realtà di altre città. Nessuna risposta intanto abbiamo ricevuto dall'assessore agli eventi Fabio Caracausi che abbiamo contattato per la replica e restiamo attualmente in attesa.